Con Marco Bruni, presidente della Federcaccia di Brescia, andiamo a parlare di due argomenti importantissimi, molto dibattuti in questi giorni. Il primo, Marco, è quello riguardante i compiti che hanno le guardie volontarie e ambientaliste e zoofile sul territorio, che non hanno più poteri di polizia giudiziaria. Questo è stato sancito dal Ministero degli Interni. Sì, è stata fatta un'interrogazione, è stato posto un quesito al Ministero degli Interni da parte del Vice Prefetto Pasquariello. Su istanza dell'assessorato provinciale alla polizia provinciale e dell'assessorato caccia. E sullo stesso argomento noi avevamo sensibilizzato gli assessori provinciali con due documenti. Uno di fine luglio e uno presentato dal nostro rappresentante Giuliano Fontana nel comitato di controllo delle guardie volontarie istituito dall'amministrazione provinciale. Cosa succedeva? Che le guardie zoofile, nello specifico Lampana e Lempa, si arrogavano il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria anche quando operavano in campo venatorio e soprattutto non si coordinavano con la polizia provinciale come da regolamento. Invece, questa circolare del Ministero degli Ambienti fuga una volta per tutte, non solo ovviamente a Brescia, ma in tutto il territorio italiano. Quindi ancora una volta noi bresciani abbiamo provato a sistemare qualcosa. Che le guardie eco zoofile non sono ufficiali di polizia giudiziaria quando sono in attività di venatoria, cioè quando svolgono il loro compito di vigilanza sull'attività venatoria, ma lo sono solamente quando si occupano di animali di affezione. E questo è fondamentale perché prima le guardie zoofile facevano penali, facevano sequestri, sequestravano l'arma, potevano fare perquisizioni. Oggi questo non può più avvenire e devono essere coordinati dalla polizia provinciale. Rimangono dei pubblici ufficiali? Rimangono dei pubblici ufficiali ai quali il cacciatore è tenuto a far vedere i propri documenti, far vedere il carniere e controllare l'arma. Basta. Possono sanzionare? Possono sanzionare, ma in teoria, quello che noi ancora è un argomento sul quale vogliamo andare ancora a cercare e fare chiarezza, non è che un volontario dovrebbe fare una notizia di reato, cioè fare l'articolo 331 del codice penale in cui segnala alla procura che Marco Bruni ha compiuto un illecito di carattere penale. Non fermare il cacciatore e dire adesso aspettiamo la polizia provinciale o aspettiamo la guardia forestale o aspettiamo i carabinieri. Quindi un ufficiale giudiziario per poterti sanzionare. Questa è una cosa che purtroppo sta ancora avvenendo e io vedo che ancora la polizia provinciale soprattutto tollera questi comportamenti. E non è corretto, non è assolutamente corretto. E su questo faremo ancora le nostre battaglie, visto che ne abbiamo vinta una, vediamo se riusciamo a vincere la guerra. Sicuramente i problemi dati dalla vigilanza venatoria sono enormi, dalla vigilanza volontaria ovviamente. Perché un conto sono i professionisti, polizia provinciale e corpo della forestale dello Stato. E su quelli problemi non ce ne sono. A me quello che mi scoccia, quello che mi dà fastidio, quello che ci ha fatto arrabbiare era che gente che erano dei volontari si arrogavano determinati diritti che non avevano. E siamo dovuti arrivare fino a Roma al Ministero degli Interni per portare a casa il risultato che noi dicevamo già dall'inizio dello scorso anno. Un altro argomento che è di grande interesse in questi giorni è quello della cattura nei roccoli della Lombardia. Il Tar ha rinviato ancora una volta, adesso mi sembra fino al 20 di novembre, la decisione finale. Questo intanto lascia sì che le catture possano proseguire. Sì, le catture vanno avanti fino al 20 di novembre sicuramente. Ma noi siamo convinti che le catture arriveranno fino al compimento dei piani di cattura. Ne siamo sicuri perché la delibera è stata fatta in modo corretto, è stata fatta bene. E questo però è un segnale che quando le cose vengono fatte bene qualcosa si può ottenere. E quindi non mi riallaccio soltanto agli impianti di cattura, ma io questa cosa la voglio pensare anche per le deroghe. Quest'anno noi abbiamo chiesto ai nostri cacciatori e Federcaccia ha fatto la propria parte in modo determinato, da un punto di vista operativo, per quel che riguarda il censimento dei richiami vivi. Noi a tutti i nostri cacciatori abbiamo chiesto di farlo, abbiamo suggerito di farlo nonostante fosse facoltativo. E noi crediamo che il grande lavoro fatto da noi, ma in parte anche da altre associazioni, se non tutte, ha portato a 7.700 cacciatori a denunciare gli uccelli. E con questi risultati la Regione ha chiesto all'ISPRA determinate cose, gli sono state concesse, e queste concessioni, quindi con il parere favorevole dell'ISPRA, hanno portato alla sostenibilità della delibera. E quindi quei roccoli che sembrava che non dovessero aprirsi, quest'anno li abbiamo aperti. Ancora una volta entrano in gioco i dati, i dati scientifici, quelli che voi reclamate da tempo. Esatto, noi continuiamo a reclamare questa cosa qua, noi su questo argomento ci crediamo, continueremo a crederci, noi abbiamo iniziato alcuni progetti, proprio per quel che riguarda la caccia in deroga, non sono cose lontane, sono progetti ambiziosi, non c'è nulla di scontato, i risultati non sono scontati, però io per mio modo di pensare se devo morire voglio morire in piedi. E quindi noi faremo di tutto con i soldi di Feder Caccia, quindi con i soldi dei miei associati, abbiamo coinvolto delle università per cercare di avere tutti gli strumenti possibili, immaginabili, per cercare di poter avere un minimo di prelievo in deroga al prossimo anno. In questi giorni è partita, ma poi adesso siamo solo all'avvio, la discussione della legge 26 per la modifica in regione. Se ne parlerà poi, mi sembra, dicembre, gennaio, insomma. Siete già stati coinvolti anche come associazioni per vedere di trovare una voce univoca per dei punti. Avete già incontrato anche l'assessore Guarneri? Sì, noi le associazioni venatorie a livello regionale avevano già steso un documento, un progetto che va rivisto, perché siccome è stato presentato tre anni fa e la regione per tre anni ci ha ronfato sopra, quindi alcuni argomenti tipo i roccoli, noi avevamo previsto determinate cose che oggi non sono purtroppo più attuabili, oppure c'erano altri argomenti che non sono più sostenibili e quelli li cambieremo. Però ci sono alcuni punti tra cui la mobilità alla sola migratoria, ad appostamento temporaneo su tutto il territorio della regione Lombardia per un pacchetto di dieci giornate. Quello è un punto che noi vogliamo portare a casa. Io su quello lì proprio tassativamente non transigo, ma anche perché c'è già stato l'accordo tra tutte le associazioni venatorie regionali, che non è poco, voglio dire, i pavesi ci hanno detto sì, va bene, vieni pure a farti dieci giornate al temporaneo a casa mia. Quindi oltretutto nel testo come l'avevamo steso noi, gratuitamente, è tutto da verificare. Però questo punto qui per noi è fondamentale, così come tantissime altre semplificazioni e anche un'impronta di carattere gestionale per quel che riguarda ATC e comprensori. Oggi gli ATC e i comprensori sono uffici commerciali. In sostanza comprono la selvaggine, ammolano e è finita lì. Mentre invece devono avere degli strumenti controllati dalle province, quindi a sua volta controllati dalla regione, in cui ci sia un minimo di regole da poter seguire che possono istituire i comprensori e gli ATC. Non regole strampalate, ma regole corrette. Federcaccia ha redatto anche un bel prospetto, apprezzato anche tra l'altro dalle altre associazioni, in cui è molto chiaro quello che era la vecchia legge, quello che sono i punti da inserire nuovi e come poi dovrà diventare. In Federcaccia abbiamo l'abitudine di fare, non di chiacchierare e basta. Quindi questo strumento ne l'abbiamo fatto, a disposizione di tutti. Sarà uno strumento di lavoro, ma soltanto la prima cosa. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire Beppe prima, che è importante, che a brevissimo ci verrà comunicato anche come gestire il censimento dei richiami vivi che è stato fatto pochi mesi fa. Perché quelli che avevano fatto il modulo 3 devono ancora inserirlo. Sembra che si riesca a trovare la formula per cui non debbano essere i singoli cacciatori a inserirlo, ma ci sia un coinvolgimento da parte dell'amministrazione pubblica. Però a breve ci sarà una riunione e noi su questo... Uno snellimento della protezione. Uno snellimento, esatto, perché sappiamo benissimo che non è facile. Però anche in questo caso qua, a buona volontà corrisponde buona volontà. A serrare e invece a mettersi a riccio non portiamo a casa niente. Noi crediamo invece che la collaborazione serve. Anche aver fatto uno strumento semplice come affiancare quattro proposte di legge, che può sembrare una stupidata anche se ci abbiamo lavorato parecchio, è uno strumento per tutti per portare a casa. In Federcaccia c'è questo modo di ragionare, che noi vogliamo difendere la casa. Su queste proposte mi sembra comunque che ci sia il parere favorevole di tutte le associazioni. Sì, su quasi tutte. Nel senso che c'è qualche puntiglio su alcune tipologie di caccia, tipo la caccia col terreno coperto di neve, che noi sappiamo che è incostituzionale, quindi di sicuro noi non la difenderemo in pianura. Cioè, resta valida nelle comunità montane, dove la neve viene presto, magari c'è già anche adesso, il Donalpi, eccetera, eccetera, ma estendolo tutto il territorio alla pianura crediamo che sia una forzatura e che comunque è già incostituzionale. Quindi è inutile perderci tempo a chiacchierare. Il Vademecum invece a che punto è? Il Vademecum è quasi pronto. Mi sono dilungato io con le vignette, anzi dopo te le faccio vedere. Va bene, intanto ringrazio Marco Bruni, presidente provinciale della Federcaccia. Ci daremo appuntamento a breve con delle news che riguardano appunto voi federcacciatori e tutti i cacciatori del territorio bresciano e lombardo. Grazie Marco. Grazie a te.